Era il 21 giugno del 2009 e il Vincenzo Presti si colorò di bianco-azzurro, tutti allo stadio. Si giocava la finale play-off per accedere in prima divisione. Non andò bene purtroppo alla squadra allenata dal compianto Vincenzo Cosco, ma in quell'occasione ci colpì la straordinaria partecipazione dei tifosi. Stadio stracolmo in ogni ordine di posto, tutti a sostenere la propria squadra del cuore. Gela che si era riversata in massa a seguire le gesta degli atleti che indossavano la maglia della propria città. Abbiamo preso spunto da queste immagini perché l'ospicio è quello che domenica prossima si possa ripetere la stessa identica scena, ma è chiaro con un risultato completamente diverso in campo. E' pur vero che non si gioca per approdare in terza serie l'attuale Lega Pro, ma si gioca per conquistare la Serie D. Ed è sempre una conquista da qualsiasi prospettiva, la si vede. Perché il Gela, che è ripartito dalla terza categoria, negli anni ha saputo riconquistare la fiducia dei propri sostenitori ed anche di quelli che dopo la mancata iscrizione della squadra in terza serie si sono allontanati. Adesso è giunto il momento di risalire. E l'occasione unica è quella di domenica prossima. Dopo la sconfitta rimediata a Paceco contro il Dattilo Noir, che ha fatto perdere alla truppa allenata da Totò Bruculeri il primo match point per l'assalto di categoria, non c'è altra scelta. Vincere contro il Cus Palermo è brindare. Qualsiasi altro risultato contro i palermitani stravolgerebbe tutto o quasi. Per mettere tutto in cassaforte, dunque per accedere in Serie D, la compagine tanto cara al presidente Angelo Tuccio deve conquistare l'intera posta in palio. Perché il distacco dalla San Cataldese si è ridotto da 5 a 2 punti. Vincere dunque è basta. E poi sarà festa. Una festa bianca-azzurra. E' già partita intanto la prevendita dei biglietti. I tagliandi possono essere acquistati da Pausa Internet in Via Venezia 316, Ottica Centrale Castarà in Via Navarra 19 e Tabaccheria Floridia in Viale Corte Maggiore 49 a Macchitella. Confermata l'iniziativa avviata già da alcune settimane a questa parte dal club calcistico. Gli studenti dalle scuole medie e superiori della città pagheranno un euro per accomodarsi in curva Angelo Boscaia.